Protoni di assenti in casa Pescara, Zeman privo anche di Zampano e Benalì in compenso. Si registra il rilancio di proietti assenti da diversi mesi, rimpiazza lo squalificato Carraro in cabina di regia. A me ci devo pensare, il ragazzo si è allenato, a parte che si è allenato anche prima, ma ha fatto quasi due settimane con la squadra, quindi dovrebbe essere pronto. Capone titolare nel tridente privo di Benalì, operato alla mano in terza linea, si rivede per rotta, reduce da un turno di squalifica, ballottaggio Valzania a Coulibaly con il primo favorito. La mezzala potrebbe lasciare l'Abruzzo a gennaio, piace al Carpi che lo ha chiesto già l'Atalanta, titolare del cartellino. Sdengo confida nella riscossa, la squadra gli è piaciuta in settimana. L'avevo visti meglio, nel senso che è vero che la squadra l'abbiamo fatto male più per questione tattica, ma in settimana la squadra ha lavorato, ha fatto pure delle buone cose. Il Venezia si chiude e riparte. Cinque pari in sei gare, seconda migliore retroguardia della serie cadetta. Bisogna cercare di smuoverli, dipende dall'attività nostra, io penso che noi abbiamo delle qualità di poterlo fare, poi bisogna applicarli. E sulla squadra ha fatto bene per me, ha fatto molto bene il primo tempo a Foggia, anche se poi ha preso due gol nei tempi di recupero. E' una squadra quadrata. Catenaccio dialettico sul rapporto con Sebastiani. E' perché non c'è niente da raccontare, di nuovo cosa ci siamo detti, se è ultima, se è penultima. Non se ne parla.